Carissimi amici, ciao a tutti e ben ritrovati all'interno delle nostre trading room. Ritorniamo quest'oggi a parlare di azioni e andiamo a commentare il settore dei semiconduttori. Un settore che ha avuto una forte drawdown in linea un po' con quelli che sono stati gli andamenti del mercato americano nelle ultime settimane. Adesso sembra che ci sia un cenno di recupero per cui ho trovato tre azioni che andiamo ad analizzare insieme quest'oggi che mi sembrano in questo momento appetibili, sottovalutate ed economiche per poter valutare quindi un acquisto e un inserimento all'interno dei nostri portafogli. Prima di arrivare a tutti i dettagli come sempre vi invito ad iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanellina per essere aggiornati su tutti i nostri nuovi video. Ora vi lascio alla nostra sigla. Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido. I miei soldi li gestisco io. E rieccoci ben ritrovati, come sempre un piccolo spazio per il nostro nuovissimo sito di Alfa For All Italia. Trovate il link in descrizione. In particolare, visto che parliamo oggi di azioni, vi invito in maniera totalmente gratuita ad accedere alla sezione del Trading Club Lite e partire un pochettino con i primi concetti per chi muove i primi passi con questa attività con il mondo delle azioni. Vedete che avete l'opportunità di scegliere questi corsi didattici. Potete, ripeto, accedere subito e trovate del materiale appunto per iniziare. Arriviamo all'argomento di oggi e parliamo appunto del settore dei semiconduttori. Semiconduttori ormai ne abbiamo parlato in diversi video che trovate qua nella playlist del nostro canale. Semiconduttori che ormai sono molto importanti per tutti gli aspetti tecnologici, dalla produzione di chip per computer, ma anche per auto che sempre di più diventano all'avanguardia dell'avanzamento tecnologico. e semiconduttori che sono stati messi diciamo nella lente di ingrandimento proprio l'anno scorso perché si è iniziato un pochettino ad avere carenza appunto di questi chip per via dell'inflazione. Per cui vorrei capire un po' quest'anno che cosa ci possiamo aspettare, ma soprattutto qualche azienda da tenere in considerazione. Partiamo intanto con l'analisi stagionale del settore, quindi dell'ETF che andremo a considerare quest'oggi. L'ETF è SOX per quanto riguarda il mercato americano, cioè il paniere che contiene le azioni che anche quest'oggi andremo ad analizzare. E in particolare partendo dall'arco stagionale possiamo vedere che su dei dati che abbiamo preso sul sito equityclock.com abbiamo dei dati aggiornati al 31 dicembre del 2021, dati di 20 anni che mostrano gli andamenti medi in percentuali per i vari mesi, ma in questo caso per tutto l'anno e se ci fate caso proprio l'inizio del mese di febbraio può essere proprio un punto chiave, un momento chiave per acquistare o per accedere all'interno di questo settore perché ha una stagionalità molto lunga che ci porta fino alla fine di dicembre, molto simile chiaramente alla stagionalità che troviamo sul settore tecnologico. Per quanto riguarda appunto l'ETF io andrò a analizzare questo paniere appunto dicevo Sox e in particolare tre titoli che fanno parte di questo fondo. In particolare parleremo di Amat, Apply Materials, poi andiamo a parlare di Microchip Technology, eccolo qua, MCHP e infine di Terdain che è TER che troviamo come posizione nella seconda pagina dell'ETF che vi sto mostrando in questo momento. Sono sicuramente dei titoli molto interessanti, entrambi o meglio tutte e tre con alte capitalizzazioni ce ne sono secondo me di migliori in questo settore ma questi ritengo che siano quelli in questo momento più economici da mettere nel portafoglio. Intanto una piccola analisi dell'ETF in particolare qua andiamo a vedere il movimento che abbiamo negli ultimi cinque anni con le candele settimanali dell'ETF di Sox, vedete un andamento fortemente rialzista, adesso sulla base quinquennale vedete che ci siamo spostati a ridosso dell'area quattrocentocinquanta e cinque più o meno dove c'è stato vedete questo rimbalzo, questo supporto che ha tenuto la discesa, vedete che ha portato questo settore a perdere circa un 18% sulla base annua con le candele giornaliere, ecco qua la discesa un po' più in chiaro, vedete più di un 18%, vedete che siamo ritornati dopo il rimbalzo sul supporto di 4,55 sulla media a 200 periodi, qua abbiamo ancora un MACD in negativo ma con probabile incrocio di carattere rialzista con quindi un segnale per una ripartenza di trend che potrebbe andare a riprendere per lo meno la prima area di resistenza intorno a 5,14, 5,15 RSI in ripresa qua vedete dalla zona di ipervenduto con la discesa che abbiamo avuto proprio sul finire del mese di gennaio che ha segnato, vedete questo minimo che in questo momento vediamo a ridosso, faccio vedere subito, di area, eccolo qua, forse con l'ombra andiamo a trovarlo su area 431,5. Andiamo a vedere i titoli appunto che volevo considerare oggi partendo da Apply Materials a MAT come ticker, qua siamo sempre su i cinque anni, quello che ci interessa di più chiaramente per la nostra analisi è sempre un po' la base annuale, vedete che attualmente siamo anche qua appena appena ritornati sopra la median dei 200 periodi, ha tenuto un po' questo livello di 130, il titolo un livello di supporto, anche qua la composizione grafica è molto simile all'ETF perché con un MACD che sta per incrociare al rialzo e RSI sempre anche qua in ripresa da ipervenduto, vedete le bande molto larghe tra loro, c'è ancora una discreta volatilità però già qualcosina possiamo andare a considerare, andare a vedere. Andiamo a analizzare rapidamente AMAT per la sua parte fondamentale, vado a recuperare eccolo qua il fondamento, l'explorer di AMAT, dati su base annual, andiamo a dare un'occhiata alle net income, quindi alle entrate che realizza l'azienda, vedete che è un'azienda che nel corso degli anni si è stabilizzata dal 2017 fino al 2020 intorno a 3,82, 4,17, 4,4, 3,27 quindi più o meno sempre intorno a queste net income con un grande balzo, vedete un cambiamento tra 2020 e 2021 di una 62,53% per quanto riguarda le entrate nette che vengono considerate su base annuale di 7,11 miliardi di dollari, le prospettive 2022 sono più rose rispetto al 2021 e così via anche per gli anni successivi, quindi un titolo che attualmente dal punto di vista finanziario sappiamo che fa utili e che anche nel futuro può continuare a continuare a realizzare degli utili. Gli indicatori chiave per la sottovalutazione, qua abbiamo già un price earnings buono, interessante, l'unica cosa che su questo titolo non mi piace diciamo che mi convince al 100% è questo rialzo del price earnings su base di quinquennale, vedete su una media di 5 anni che è aumentato, cosa che non mi entusiasma tantissimo, però rispetto ai concorrenti, ai collegati che ci mostra interactive è il più basso appunto dei concorrenti del settore, il che comunque è e risulta un buon dato. Considerando che il suo EPS attualmente ve lo sto per mostrare è in salita sulla base dei 5 anni e diciamo che è il più basso rispetto ai concorrenti, però va a valutare con questo rapporto un'azienda che in questo momento la possiamo considerare appetibile ed economica e quindi sottovalutata. Vediamo ora dai massimi abbiamo ancora un 15-16%, secondo me di tutto rispetto poter valutare un'entrata su AMAT. Ma secondo me ancora meglio possiamo valutare l'azienda con ticker Terden, abbiamo in questo momento sul quinquennale vedete sempre un po' questo supporto a 111.87, andiamo a vedere sull'anno, vedete qua perché ha perso davvero parecchia strada rispetto ai massimi, qua abbiamo perso quasi una 37%, non siamo ancora vicino alla media 200 periodi quindi siamo ancora un pochettino sotto, vedete questa forte candela in un giorno che l'ha fatto perdere il 24%, siamo ancora negativi con il MACD, non siamo vicino ancora a un incrocio quindi dal punto di vista tecnico questa magari un attimo di pazienza prima di considerarla come azienda ovviamente da mettere nel portafoglio, andiamo a vederla invece dal punto di vista fondamentale perché sui dati finanziari siamo sempre qua su base annua, con le net income non abbiamo un fatturato in linea rispetto a Play Materia che abbiamo visto prima perché qua stiamo con un fatturato del 2021 su un miliardo di dollari e anche la sua capitalizzazione è molto più bassa rispetto all'azienda precedente però vedete che anche qua abbiamo un 2022 probabilmente con una stima leggermente negativa per quanto riguarda o meglio inferiore per quanto riguarda realizzarsi degli utili però comunque vedete che è un'azienda che dovrebbe continuare secondo le stime degli analisti a realizzare appunto degli introiti positivi. Gli indicatori, questo è una cosa molto importante perché anche qua abbiamo un dato piuttosto basso a livello di PE rispetto alla media dei 5 anni siamo inferiore rispetto anche alla media dei concorrenti più importanti del settore ovvero il secondo e l'ultimo che troviamo nella lista è decisamente in linea o più basso rispetto a quello che ci viene mostrato dalla fondamentale di Interactive. Andiamo anche a dare un'occhiata al suo EPS che vedete è in crescita ed è uno dei più alti rispetto ai concorrenti quindi anche questa è un'azienda in questo momento da considerarsi sottovalutata per il suo valore avete visto poi che ha perso anche questo quasi 40 per cento quindi anche tanta strada per riprendersi quei livelli. Ultima società che analizziamo quest'oggi che è Microchip Technology anch'essa una bellissima società da tenere in considerazione per i semiconduttori anche qua con le net income siamo vicini all'azienda invece Terra che abbiamo visto in precedenza eh società che comunque utili in questo momento ne sta facendo come indicatori chiave qua si alza un pochettino il suo price range ma è comunque sotto media dei 5 anni e più o meno stiamo lì con la media dei concorrenti della del settore che ci va a dimostrare eh il fondamento di Interactive Broker e con il suo EPS in questo momento vedete siamo sopra media cinque anni e più o meno leggermente sotto media con i vari concorrenti del settore allora sono tutti i titoli che possono essere considerati eh ce ne sono di migliore secondo me sul settore tecnologico ma ci tenevo a vedere un po' questi tre perché diciamo che non se ne parla molto in giro ma secondo me hanno delle buone eh potenzialità domani sera io vi ricordo che come sempre come ogni eh giovedì ci sarà il laboratorio eh sulle azioni il laboratorio operativo dove eh tutti insieme andremo a fare un po' un'analisi del mercato e andremo a eh trattare degli argomenti sia didattici che pratici per ehm farvi capire tutti i concetti che servono per fare tutte queste analisi e prendere le migliori decisioni eh vi lasciamo come sempre il link in descrizione vedete che per fare un mesetto insieme a noi eh a livello di investimento richiede solamente sessantanove euro eh trading club con il link azioni in eh descrizione io come sempre vi ringrazio per l'attenzione per oggi ho concluso qua e poi vi aspetto tutti nel trading club di domani sera ciao e buona giornata